Benvenuti e benvenuti a GEM, il Museo Mineralogico e Geologico Estates. E presenti sono Pietro Tottenberg, uno dei suoi primi direttori. Sono stato io, 250 anni fa, a paragonare la correzione di questo museo ad un argento proprio per la sua bellezza e preziosità. Ecco perché oggi questo museo è chiamato Museo. Oggi il museo è ospite del complesso San Deoferian a Modena. Nel corso della sua storia questa struttura ha conosciuto molte trasformazioni. è stata convento, caserma, carcere ed oggi ospita il Museo GEM, sotto il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Regione. Preparatemi a un viaggio incredibile tra minerale, gemme, rocce, meteoriti, plastici e mappe. Visiterete quattro punti meravigliosi in compagnia di quattro grandi esperti. Incominciamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!